. Albano Carrisi si scaglia contro Barbara D'Urso, basta gossip Il cantante pugliese sarebbe stufo delle continue voci di gossip sul suo conto e si scaglia contro la conduttrice di Mediaset. . Secondo quanto riportato da alcune riviste di Cronaca Rosa, Cancelletto Albano Carrisi sarebbe stufo delle continue voci di gossip che girerebbero ormai da un mese a questa parte sul fantomatico triangolo che lo vede al centro di un amore conteso tra Cancelletto Loredana Leciso e Romina Power. . Secondo i giornali, il cantante pugliese si troverebbe al centro di una vera e propria battaglia d'amore tra l'attuale compagna e la sua ex moglie. . Certo, è pur vero che i giornali non inventano nulla e, se si è arrivati a questa situazione, è perché è stata gettata altra legna sul fuoco che già ardeva proprio da Loredana Leciso che, in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, avrebbe ammesso di aver lasciato la tenuta Carrisi per andare a pavia da suo fratello Luca. . . Impossibile non andare in fondo alla situazione, anche perché sembra che la verità ancora non sia venuta a galla. Loredana avrebbe dichiarato di aver lasciato la casa dove abita col cantautore pugliese per via delle continue uscite fuori luogo di Romina Power. . Ad oggi sono molti i fan che vorrebbero un riavvicinamento della cantante americana Carrisi, anche per via di alcuni post sospetti pubblicati da Romina, che farebbero ben pensare. . La scorsa domenica però è arrivato il colpo di scena, ospite di Cancelletto Barbara Durso, Loredana Leciso con le lacrime agli occhi ha dichiarato di amare ancora il suo uomo e che presto, addirittura, farà il suo ritorno in quel dicellino San Marco. . A questo punto però, al culmine di una pazienza che sembra stia per finire, Albano Carrisi, ospite a Cartabianca, avrebbe attaccato la conduttrice di Domenica Live, video, accusandola di essere attaccata troppo al gossip. . . In questo modo, sto leggendo la mia vita sui giornali, così ho saputo che Loredana sarebbe andata via da Cellino. Carrisi avrebbe proposto di tassare i direttori dei giornali, in modo da non speculare sulla vita degli altri. . . Il leone pugliese, inoltre, avrebbe detto che non vede lora di tornare in tv come giudice di The Voice of Italy, video, in modo che di lui si torni a parlare di carriera musicale e non per gossip. . Il perché della fuga di Loredana a Pavia? Loredana Leciso, che non è mai entrata nelle simpatie dei fan nostalgici della coppia Carrisi-Power, avrebbe fatto discutere ancora una volta le male lingue. . . Nello specifico, la sua fuga a Pavia dal fratello Luca, non sarebbe stata per motivi di cuore, come si vuol far vedere, ma per un ritocco di chirurgia estetica. . . Luca in fatto di professione fa il chirurgo estetico e, se uno più uno fa due, in molti sono pronti a giurare che la compagna di Albano sarebbe volata in Lombardia per farsi più bella. . Magari per il suo uomo, magari per se stessa. Chissà, fatto sta che la fuga di Loredana è ancora un mistero tutto da risolvere. . 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 Grazie a tutti.